Artemide sta andando positivamente, sta affrontando questi anni complessi in modo molto positivo, molto costruttivo, grazie a un'innovazione di prodotto e a una grande capacità di relazione col territorio e con i partner del territorio. Il bilancio del 2021 si è chiuso con un fatturato in crescita del 10% rispetto al 2019 e quindi con un incremento molto positivo che promette un anno, un 2022, altrettanto importante come risultati. Stiamo vivendo un periodo molto complesso dal punto di vista geopolitico e in particolare rispetto a questa drammatica guerra in Ucraina. L'impatto della guerra dal nostro punto di vista e dal mio personale punto di vista è principalmente un impatto umano e la sensibilità è veramente verso questo tipo di tragedia della comunità in Ucraina e nello stesso tempo però è evidente che ci sarà anche un impatto di tipo geopolitico e dunque di complessità negli equilibri dei mercati. Il design italiano, in realtà il design è internazionale, nel senso che gli autori, laddove la parola design significa progetto, quindi gli autori dei progetti sono internazionali, a partire da Artemide i nostri autori sono non solo italiani ma da sempre riportano la cultura del progetto di tutto il mondo. Il design italiano inteso come aziende sicuramente mantiene un primato e di questo siamo molto orgogliosi perché la tradizione delle aziende italiane nell'accogliere nel interpretare le visioni dei progettisti e nel saperle produrre e distribuire è stata sempre unica, grande visione e grande capacità di qualità del prodotto e innovazione. Io credo dunque che la comunità delle imprese italiane e dei progettisti italiani e internazionali sarà sempre leader nell'interpretare il futuro nel presente. Sicuramente noi potremmo partecipare anche in modo innovativo al prossimo Salone del Mobile che si terrà ovviamente sempre a Milano, Eero, che significa in una formula di dialogo aperto tra diversi settori del progetto delle imprese del design, quindi luce, mobile, accessori, cucine, eccetera, eccetera e questo sarà ancora una volta una dimostrazione di come l'Italia non solo è capace di esprimere attraverso le nostre imprese innovazione e visione e bellezza ma anche di saper dialogare con le imprese stesse all'interno di un Salone del Mobile ancora protagonista nel mondo. Questo è un momento in cui si parla di operazioni straordinarie non solo nel mondo del design. Per quanto riguarda Artemide, Artemide rimane e rimarrà indipendente. Nella nostra visione, semmai, c'è il progetto di osservare possibili alleanze o inclusioni di altre realtà. Ernesto Gismondi ha sempre confermato la volontà che Artemide crescesse e si ampliasse sempre di più attraverso operazioni straordinarie di acquisizioni. Acquisizioni che confermeranno ancora una volta non solo il primato della nostra azienda ma il primato anche del design italiano nel mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!